Nome, Margherita, cognome, età, quasi 83 anni. Sei credente? No. Come ti definisci? Atea. Cosa vuol dire? Non credo in Dio, nell'anima, nell'aldilà, credo nella materia. Chi ti dice che Dio non esiste? Credo che Dio sia un'invenzione per spiegare tutto ciò che non sappiamo. E allora i miracoli? Spesso si tratta di illusioni o di fenomeni naturali non ben compresi. E le madonne che piangono? Ma perché non ridono mai? Che lavoro fai? Sono un fisico che studia la natura fisica dei corpi celesti. Oggi sappiamo che l'universo è in espansione all'infinito. E non lo ha creato Dio? Dio è un'ipotesi che ritengo non necessaria. E chi l'ha creato? La materia probabilmente è sempre esistita. E la materia chi l'ha creata? È sempre esistita. Chi è stato Gesù Cristo? Una grandissima figura, uomo, non Dio. Quale ruolo ha avuto nella storia la religione? È stata importantissima. Il cristianesimo? La parola di Cristo ama il prossimo tuo uomo e te stesso. Sono una morale che tutti possono accettare, laici e credenti. Sai l'atto di dolore? Non so nemmeno che cosa sia. Cos'è che non ti spieghi? Sono tante cose che la scienza ancora non sa spiegare. E l'ultima cosa che ti sei spiegata? L'universo è piano, cioè obbedisce alla geometria euclidea, perciò l'universo è infinito nel tempo e nello spazio. Studiando l'universo hai mai trovato tracce di Dio? No, davvero. E quando guardi dentro di te cosa vedi? Noi atei crediamo di dover agire secondo coscienza per un principio morale, non perché ci aspettiamo una ricompensa in paradiso. Da quali materie è composto l'essere umano? Dalla stessa materia dove sono composte le stelle. Perché viviamo? Per domandarci chi siamo, da dove veniamo. Dopo la morte dove andiamo? Dopo la morte non ci siamo più. Hai mai avuto dubbi? No. Hai mai bestemmiato? Oh, io bestemmio sempre, sono toscano. La Chiesa esisterà in eterno? Penso di no. E la religione? Nemmeno. In cosa la Chiesa condiziona la vita politica? In Italia moltissimo. In che modo condiziona la tua vita? La mia non la condiziona affatto. E esistono altri esseri simili all'uomo? È molto probabile. E l'uomo con questi simili entrerà in contatto? Le distanze sono enormi e la velocità della luce è un limite insuperabile. Esistono gli UFO? Credo siano abbagli. E che valore ha l'astrologia? È un residuo dell'ignoranza del passato. È possibile prevedere il futuro dalle stelle? Le stelle non hanno nessuna influenza sulla nostra vita. Esiste il destino? Il destino ci si fa da noi o nelle nostre azioni. Cosa ti rende felice? Il mio lavoro. Oggi sei felice? Sì. Perché? Perché c'è una bellissima giornata, c'è un bel cielo azzurro. E non ti manca un po' Dio? No, assolutamente no. E non ti senti un po' sola? No. E non hai paura? No. Paura di cosa? E non ti senti un po' di cosa?